Non mi sento, non mi vedo, povera notte, le mani al cielo, questa è l'energia del centro Italia, adesso 2011, ricambiamo il giorno appuntamento, domenica, 14 agosto, aprilino, reone e venti, bagno e piscina, ricchiato per tutti, e musica, 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 signora, dov'è Claudia? Questa sera, Claudia, dov'è? In giro, questa sera, un grande applauso a Claudia, festeggia il suo addio annubilato! Amici di Siena, amici di Arenzo, amici di Perugia, amici di Siena, amici di Siena, amici di Siena, amici di Siena. La voce definitale pieni di brasisi zioi, internazionali Le Bakf 4 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì.